Musica Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo In questa puntata andremo a fare l'unboxing della Trust Illuminated Keyboard GHT280 Una tastiera da gaming, c'è scritto adesso, io non vedo che c'è scritto tastiera meccanica Quando non vedo scritto tastiera meccanica io non credo che sia da gaming Però essendo che ho avuto l'urgenza che la mia tastiera dopo circa 3 anni Che per chi non la conoscesse è questa qui E praticamente oramai ha subito praticamente tutte le interperie più possibili Ci sono i tasti ultra mega usurati, adesso non si possono notare bene Però sono praticamente distrutti, adesso nell'ultimo tempo mi si è spaccato pure il tastierino numerico A questo punto ho dovuto per forza cambiarla, infatti abbiamo acquistato questa qui Ero deciso di acquistarla su Amazon, la tastiera, una da 7 colori Che mi pare che costava 27€ e mi davano anche un mouse Però non aveva marca e non è che mi fido più di tanto quando non ci sono le marche Ma ho visto questa qui al supermercato, costata 40€ al Carefour E ho detto ciao prendiamola, essendo che compro sempre da Trust Anche stavolta l'abbiamo acquistata Andiamo subito a fare l'unboxing Quindi andiamo a tagliare le fascette Una, due e tre Ok Era l'unica incelofanata così tanto bene perché probabilmente le compreranno in ben pochi queste tastiere Però devo dire che è fatta piuttosto bene l'incartamento Però credo che sia forse a scorrimento, vediamo Due, tre e quattro Vediamo se è quello che penso Sì a scorrimento infatti Cioè guardate che incartamento fortissimo Cioè è stata incartata perfettamente È una testiera, sembra quasi modello Come si può definire Un modello semplice Ecco Diciamolo così Meccanica non è meccanica Ma c'è dell'unto Non so se si può notare C'è dell'unto come se fosse delle patatine Ecco si può notare di qua Non so come mai c'è questo unto d'olio Però Non lo so Sembra quasi un unto d'olio Però boh Boh non si sa cos'è Dopo ci passo il vostraccio Il cavo è veramente molto Mmm Manca un pezzo E infatti Perfetto Incominciamo bene Sembra quasi rotto No forse no È da agganciare Forse ho sbagliato Minchè per un momento mi è venuto un collasso Sì diciamo che il pezzettino qua Ecco ora è agganciato bene Comunque Devo dire che è una Carina tastiera Con buchi di sfogo In caso che entra l'acqua No è incredibile Cioè in caso che entra l'acqua Ci sono dei buchi di scolo Che non permettono di Mandare in cortocircuito La nostra La nostra Tastiera Bellissimo Finalmente una tastiera Un pochettino più utilitaria E poi ci abbiamo anche qui All'interno Possiamo trovare i driver Ah Download option Software for Perché sia Esatto ecco Una cosa che vi devo dire Questa tastiera Ha Un software Opzionale Ora non credo che ci sia il dvd Qua dentro Ma Sul Sì Più che altro Sulla scatola originale Cioè Sulla Copertina C'è scritto Che praticamente Si possono Impostare Attraverso Il software Intanto possiamo leggere qua Tastiera da gioco Dotata di tasti Ben illuminati Multicolore Per una perfetta Leggibilità Anche al buio E poi c'è scritto Anche qua Software for Programming case Quindi credo che Programmazione Di tasti Qualcosa del genere Poi tre colori Rosso, verde E giallo E possiamo Premere fino a Sei tasti Contemporaneamente Quindi praticamente Mi Intrippo le dita Per Usarla Va bene ragazzi Da questa puntata è tutto E ci vediamo A un prossimo episodio Ciao ragazzi Ciao ragazzi